Domani, ma stiamo scherzando. Ogni tanto devo guardare, se c'è qualche fumo bianco, un fumo normale, però finchè diventa più grigio, scuro, tocca avvisare. Pensi a tante cose, pensi al passato, al futuro, a questo mondo, proprio dici che uno è un bianco. Ma perché devi essere cattivo? Che tutto è che per pensare. È molto conveniente andare via. Perché vedi delle cose, se non stai dentro la polizia. Grazie. 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 Grazie.